Questa è la terza conferenza stampa per evidenziare le criticità dei provvedimenti legislativi di aiuto post-Covid e non possiamo che prendere atto di una totale difficoltà a chiudere le procedure. Nello specifico, in occasione dell'approvazione della legge che doveva dare dei contributi, si sperava tutti nell'immediato alle attività produttive, avevamo detto che bisognava aumentare la capacità di risposta da parte della struttura regionale costituendo una task force. Avevamo detto che dovevano essere dati in anticipo i fondi in alcune realtà sofferenti come i somministratori di alimenti e bevande, i ristoranti, i bar, quelli che sono rimasti chiusi. Nulla di ciò è stato fatto e stiamo a un anno dall'approvazione del Cura Abruzzo 1 e a poco meno di un anno dalla definizione delle procedure di ammissione a finanziamento delle attività produttive incise e molti ancora devono avere i fondi. Tra l'altro voi sapete che queste provvidenze sono state elargite in virtù di una riprogrammazione dei fondi europei e quindi sono state tolte delle somme a vantaggio dei territori e siamo ancora in ritardo sulla programmazione che li dovrà rimettere dentro quella 2021-2027. Chiudo dicendo una cosa, queste disfunzioni sono segnate dal dibattito politico che c'è della contrapposizione all'interno della maggioranza. Voi sapete che è stata approvata una legge per la montagna, per gli operatori della montagna, per il turismo di montagna, per i maestri di sci. È ingessata in prima commissione perché per diatribe interne alla maggioranza si sta spendendo, diciamo così, la contrapposizione politica interna alla maggioranza senza pensare alle esigenze di queste persone sofferenti e lo si sta facendo casomai per un posto in consiglio di amministrazione al Teatro Marrucino.